Benvenuti nel centro usato di Grumello del Monte. Benvenuti nel nostro sito Mobility dove ogni giorno pubblichiamo le nuove occasioni. Qui selezioniamo le migliori vetture usate presenti sul mercato. Noi le certifichiamo e le garantiamo dopo un accurato controllo in assistenza eseguendo gli interventi necessari per una perfetta condizione di guida. Digitando usato potete scegliere la vostra prossima automobile, conoscere la storia, apprezzarne il valore. Se avete trovato la vostra automobile potete inviare una richiesta e sarete ricontattati immediatamente. Le nostre vetture BMW Premium Selection sono tutte sottoposte a 92 controlli tecnici certificati e dopo che avete percorsi i primi 3.000 km eseguiremo un check-up gratuito. L'acquisto delle nostre vetture può essere comodamente fatto con le nostre finanziarie. Potete inoltre usufruire delle migliori coperture sul mercato grazie ai nostri contratti assicurativi. Qui sotto a sinistra scoprirete in quale delle nostre sedi si trova la vettura. Nelle concessionarie di Bergamo, Lecco, Berbenno-Valtellina, Serenio, Cesano-Maderno, Grumello del Monte.